Now you can feel the magic in the air You've found what you, what you're searching for Is it cause of you? 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 espresse nella nostra tecnologia, dimezzando quasi i tempi, quindi aumentando anche la gamma di prodotti forniti eventualmente, perché questo per macchine permette di passare dei pezzi dalla filiera 300 fino a un massimo del 1.800 sostanzialmente, e quindi per andare ad attaccare quelle quote di mercato che fino ad oggi sono saldamente in mano delle imprese concorrenti. Prima di formalizzare l'acquisto di questo impianto, gentilmente la Soraluce ci ha invitato presso la loro sede tecnologica in Germania, dove di fatto abbiamo realizzato dei pezzi, quindi simulando quanto avremmo fatto effettivamente presso la nostra sede. Abbiamo riscontrato alla fine di questi testi un livello di precisione esecutiva secondo a nessuno. Quindi nelle tratte attive con la Soraluce noi abbiamo esposto le nostre esigenze lavorative e quindi nel realizzare dei pezzi estremamente complessi, che richiedono tornitura, fresatura e anche quindi l'effettuazione di fuori estremamente profondi. E ovviamente un unico piazzamento. Quindi non volevamo in nessun caso andare oltre quelle che sono le normali soluzioni che fornisce la Soraluce per rimanere dentro un concetto di standardizzazione, che in sostanza, cosa vuol dire per noi clienti della Soraluce? Avere una macchina affidabile. Benché abbiamo iniziato a lavorare con Soraluce soltanto da alcuni mesi, posso dire che tutti i pezzi finora realizzati rispondono in maniera eccellente a tutte le nostre aspettative. Grazie.